Ciao a tutti, sono Alessandro Terreno, presidente del Circolo dei Dei di Mondovì. Anche noi come gruppo giovani seguiamo la campagna Io Resto a Casa. Io resto a casa. Ciao, sono Alessandro e in questo periodo io resto a casa. Ciao a tutti, sono Matteo e in questo periodo di emergenza io resto a casa. Ciao, io sono Elena e io resto a casa. Ciao, sono Chiara Veronese e io resto a casa. Ciao, io sono Lucia e io resto a casa. Ciao, sono Marco e che fai? Resto a casa. Eh, bravo. Ciao, io sono Irene e io resto a casa. Ciao a tutti ragazzi, dobbiamo restare in casa. Ascoltate questo consiglio che ci viene da più parti e anche dai nostri amici del Circolo delle Idee. Restiamo in casa. Grazie, mi raccomando. Mi chiamo Paola, faccio parte del Circolo delle Idee e io resto a casa. Ciao, mi chiamo Cristian, faccio parte del Circolo delle Idee e io resto a casa. Ciao, io sono Pietro e resto a casa. Sono Jacopo del Circolo delle Idee e io resto a casa. Ciao, sono Marta ed io resto a casa. Ciao, io sono Nicole D'Agostino e resto a casa. Sono Luca Magnino e io resto a casa. Ciao, io sono Viviana e io sono Frodo e noi restiamo a casa. Ciao a tutti, io sono Giovanni Chionetti e anch'io resto a casa.